è verificata, no? minchia, con le medie sono partito come lo fai il Mugello con le medie? porca paletta no, no, neve no, no, neve no alla miseria qui ti posso cambiare pure la temperatura della pista no, 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 no no, 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 no no, 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 no qui non c'è il casuale bravissimo grazie non mi sbattere guarda per evitarti niente no Abbassi, abbassi il, abbassa la cosa, non vedo, oh, abbassa, oh, ora si che ci vedo, ora si che ci vedo, andate. Comunque questa Z4 è bella che è veloce, io non gli ho fatto niente. Devi ascoltare il volante, devi ascoltare. Che sta succedendo a me, me la perdo io, guarda, l'ho quasi persa, quasi. Ho anticipato la curva, sono sull'erba, non molla, non molla, i freni rossi. Grazie. 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 Oh, dai, ti stavo, ti stavo riprendendo. Grazie. 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 Oh, ho sbagliato io adesso. Grazie. Qui non c'è un assetto stabile, qui c'è un assetto di default, poi su quello ci lavori. Project Cars. Non ho potuto chiudere la curva, eh, non t'ho visto. Visto? Il BMW è puri traversa, riuscire a dare la curva. Guardalo. Hai visto? Ahahahahah. Ma qui il controsterzo funziona, non è mica come Project Cars che non funziona un cazzo. Qua il senso controsterzi... Ahahahahah. Molto. Qua se controsterzi cazzo la macchina risponde, su Project Cars controsterzi succede un cazzo. Guarda che... Guarda che è staccata, guardalo, guardalo. Ti ho passato in curva, in staccata. Eh, in accelerazione ho controsterzato. La sto guidando tutto di sterzo. Sì, perché sennò sarai andando dritto. Io ho le morbide, ho le medie, ho... Giù in accelerazione controsterzo, dai! Con il cazzo te lo sogni, io adesso sto giocando, te lo sogni di fare delle curve in piena accelerazione controsterzando su Project Cars. sull'erba, sull'erba, sull'erba! Non chiudo la traiettoria perché ti vedo. Noi... Uppina generazione. non ti preoccupare che ti passo la frenata come ho fatto prima no sei troppo lontano per provare ad attaccarti in frenata infatti sono andato dritto sono andato dritto ma hai rallentato grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ehi, da poco abbiamo cambiato. No, no, l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta, Davide. Qui la devi saper guidare la macchina per quello che è più lento. Qua traiettorie, qua traiettorie e l'assetto della macchina fanno la differenza. E' più l'assetto della macchina. sempre le sessioni puoi entrare anche a metà gara fine gara, inizio gara, qualifiche puoi entrare sempre, in qualsiasi momento puoi entrare sempre in qualsiasi momento, anche a metà gara le sessioni sono completamente aperte eh, hai viaggiato bene l'ultimo giro fammi indurire un po' il freno il freno, si? si, si, io ce l'ho regolabile puoi indurire le cose fammi fare sto cazzo d'assetto gomme, eh, le morbide slick, alziamo lì un po' le pressioni, giusto un pelo e adesso vediamo carburante so, avanti e indietro, avanti e indietro elettronica, avs, controllo di trazione aerodinamica un pelo di carico dietro perché tanto la pista è lenta mugello z4 z cazzo scritto z4 z2 arrivo, arrivo come cazzo? ah, ecco gt3 salva carichiamo e proviamo bandiera gialla bandiera gialla signori no, muo' si che il freno va salva s5 silenzio s5 silenzio s5 s5 s6 s6 bandiera gialla oh guarda c'è una bella ragazza e non mi fermo parcheggio dobbiamo aspettare sì o no vai piano quanto cazzo stiamo andando non lo so io non lo vedo nemmeno a quanto stiamo andando in primo no io c'avevo la quarta non vedo io non vedo io non vedo nelle marce e nella velocità non vedo un cazzo io vedo vedo il recovery l'emg k delivery l'emg mode e l'engine brake cioè su tutte le impostazioni per le macchine ibride no no non ti ho toccato mi volevo affiancare siamo siamo imparata sul sul mugello oh che cazzo ho messo la ritromata si è fermata la macchina sì oh guardate, guardate, guardate guardalo, guardalo no, ma è impossibile, è impossibile che ferdi la macchina così è impossibile cioè, hai guidato una bicicletta con due pedali anzi, mezzo pedale di Ferrari è incazzata? si, pure io, sono a folle se mi sbaglio faccio come prima, metto la retromarcia non l'ho fatta in fossa stavo cambiando, stavo cambiando in quadratura guarda quest'altro madonna io l'ho visto arrivare dallo specchietto, tutto sparato ho detto adesso mi dà una botta che non finisce più sopra la fratta, sopra la fratta sopra la fratta bene ragazzi da questo da questo momento in poi che vinca il peggiore guardalo 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 come lo fa che vinca il peggiore c'è tutta la macchina distrutta proviamo a fare così il tempo no chiusa male la curva chiusa male grazie a tutti no no mi ha levato il tempo ho sbagliato ho aperto troppo il gas prima c'è la macchina danneggiata il tempo è finito come due giri 5 minuti 5 minuti e 20 eccola grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti morbide morbide le so grazie a tutti 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 Sto correndo Giro andato a puttane Scusa Dai che riusciamo a fare almeno un altro giro Grazie a tutti Se tagliamo il traguardo prima che finisce il tempo penso di no A fare un altro giro Grazie a tutti Qualifica finita Come hai fatto a fare 1,55? Overtime Fermo, 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 che se no questo non parte No, non si può saltare 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 si sente si sente 20 secondi al via no no puoi entrare puoi entrare in qualsiasi momento anche a metà della gara a fine gara inizio gara puoi entrare sempre eccolo eccolo mi hai toccato mi hai toccato no non l'ho chiusa no l'ho chiusa no no sono macchine di default queste stai a pensare a bravura largo 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 che mi lascia la porta aperta e si avvicina si avvicina lo sto tallonando lo tallono lo tallono mi metto pressione mi metto pressione mi vedi mi vedi sto dando gli specchietti mi vedi mi vedi mi vedi mi vedi si avvicina oracle mi vedi siega esistica เข Grazie a tutti.